Colpo di scena nelle indagini per la morte di Maria Uncureano, la bimba romena di 9 anni che il 19 giugno del 2016 era stata rinvenuta senza vita, negata, nella piscina di un resort di San Salvatore, Telesino, in provincia di Benevento. Nessuna traccia delle accuse di omicidio e violenza sessuale nell'avviso di conclusione delle indagini del procuratore aggiunto Giovanni Conso e dei Carabinieri. Nell'atto firmato dal PM ora figurano i nomi di quattro persone. La criminologa dei fratelli Ciocan, uno degli indagati, è stata l'unica ad affermare con decisione fin dal 2016 che la bambina non era stata uccisa. Ma sentiamola in questa intervista esclusiva che ci ha rilasciato qualche ora fa. La procura di Benevento ha finalmente riconosciuto che la morte di Maria Uncureano è intervenuta in seguito a un incidente. A Daniel e Cristina Ciocan è stata notificata la chiusura delle indagini e l'ipotesi di reato, di un nuovo reato, è quella di abbandono di minore. Un'ipotesi che non ci spieghiamo, in quanto Maria quella sera dopo cena lasciò la casa dei genitori per andare incontro alla morte. In ogni caso la difesa può dirsi soddisfatta e sollevata in quanto finalmente non c'è più il rischio che venga commesso un errore giudiziario. da San Salvatore Telesino è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it